Dal 17 giugno al 27 agosto bagnanti e turisti potranno raggiungere il mare di Pescara con i bus navetta. Il servizio gratuito, messo a disposizione dal comune ogni fine settimana, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19, prevede corse di andata e ritorno ogni 30 minuti, con partenza da Piazza Sacro Cuore per le Naiedi e dall'antistadio, lato Tribuna Maiella, a Viale Primovere. Il parcheggio sarà gratuito nella zona nord dell'area di Risulta per chi prende il bus navetta diretto alle Naiedi. Come annunciato al Tg8, l'assessore al comune di Pescara per la mobilità, la viabilità e i trasporti, Luigi Alpore Mascia. Il servizio è partito in via sperimentale lo scorso anno e ha avuto un riscontro importante, oltre 5.000 utenti, oltre 5.000 passeggeri e quindi questo ha fatto pervenire l'amministrazione alla determinazione di strutturare questo servizio che ci sarà anche quest'anno e ci sarà nei prossimi anni. L'utenza ha recepito questa opportunità, utenza non solo pescarese ma anche fatta di turisti, di tutti coloro che utilizzano il nostro aeroporto, i nostri mezzi di trasporto per raggiungere Pescara. Servizio gratuito con due percorsi che replicano l'esperienza dello scorso anno molto positiva. Un percorso a nord che riguarda quindi la riviera nord e un percorso a sud con capolinea Piazza Sacrocuore a nord e il parcheggio dello stadio e dell'antistadio invece a sud. Tutto questo farà felici anche quanti eviteranno poi di dover pagare il parcheggio sulla riviera? Uno sforzo notevole da parte dell'amministrazione, uno sforzo di civiltà che deve incontrare anche un incremento ulteriore dei numeri dello scorso anno perché è un'opportunità che si abbina alla possibilità quindi non solo di parcheggiare sulla riviera trovando più stalli auto ma cogliendo proprio questa misura per quello che riguarda il parcheggio di scambio dell'area di risulta. Ci sarà un'area nord totalmente gratuita che costituisce un'ulteriore opportunità di lasciare la propria auto gratuitamente, di poter quindi generare quel criterio di intermodalità che è valido in tutta Europa e che ti dà l'opportunità poi di raggiungere le località balneari, gli stabilimenti in tranquillità. Il servizio gratuito dei bus navetta sarà attivo anche nel giorno di ferragosto con 5 mezzi elettrici di tua acquistati in passato dalla Municipalità Cittadina con fondi regionali. Ci sarà anche una novità importante che riguarda i residenti della zona Colli? Sì, anche qui abbiamo strutturato un servizio che quest'anno invece riguarderà i mesi di luglio e agosto anziché solo agosto quotidianamente attraverso la possibilità di deviare la linea 5 che serve essenzialmente la cittadinanza dei Colli direttamente sul lungomare nord, questo tutti i giorni per luglio ed agosto. Che però non sarà gratuito perché è un autobus di linea. Questo è un servizio di linea e quindi la tua lo mette a disposizione e viene incontro a queste esigenze Grazie per la visione!